Ciao a tutti, sono Edoardo, Chiara, Maria, Claudia, Novella, Elisa, Guglielmo, Teografia, Italiano, Spagnolo, Matematica. Prima della videochiamata mi sentivo sicuramente nervosissima, dopo sono rimasta veramente felice. Onorata in un certo senso che questi bambini si stessero fidando di me. Sembrava di essere vicini, nella stessa stanza. Alla seconda chiamata con Sonia, la ragazza che mi è stata insegnata, sono rimasto molto stupito del fatto che si ricordava un piccolo trucco che le avevo insegnato su come fare delle slide. Credo fortemente che un aiuto e una spinta siano fondamentali in questo periodo. Quando queste difficoltà riguardano soprattutto giovani e ragazzi nel pieno della loro crescita personale, non si può stare fermi. L'educazione rende libero ciascuno di prendere le proprie scelte e penso sia un diritto fondamentale nel quale nessuno dovrebbe essere privato. Per me la parola educazione significa principalmente tre cose. Libertà, responsabilità e rispetto. Spero di riuscire a trasmettere un aiuto concreto. Speranza, voglia di merda. Quindi forza ragazzi, avanti e non mollare. Teniamo sempre in mente che ci sarà sempre qualcuno disposto ad aiutarci. Ciao, ciao!